Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per la cantieristica sulla SR69 di Valdarno, senso unico alternato e restringimenti, in tratti saltuari e diversi tra i chilometri 12 e 27, il provvedimento è in vigore fino alle 24 di stasera. Uno sguardo al traffico ferroviario, l'Eurostar Frecciarossa 9536, Napoli Centrale e Milano Centrale, sta viaggiando con 18 minuti di ritardo. Il transito a Firenze-Santa Maria Novella, al momento previsto alle 15.04, salvo recupero. Ultima pagina per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo che in occasione della notte di Capodanno sono previste la ZTL non-stop e la tramvia in funzione fino alle 5 del mattino. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, la città metropolitana di Firenze e il comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!